Le figlie della carità, i fedeli di Polignano Amare, le forze dell'ordine, in particolare il comando della Guardia di Finanza della Regione Abruzzo, i bersaglieri di cosenza e i granatieri di Spoletto, accompagnati dall'Arcivescovo Monsignor Boccardo. Saluto inoltre gli studenti, specialmente il Liceo de Santis Galilei di Magoglio e gli istituti di San Nicola la Strava e il Santo Floreo di Avezzano, la delegazione dell'Opera romana in partenza per l'Ira, i gruppi parrocchiali e le numerose associazioni, particolarmente Spina, Bifida e Idrocefalo e gli amici di Raul Polerò, impegnanti nell'aiuto ai sofferenzi. In questi primi giorni d'Avvento rivolgiamoci alla Vergine immagolata con la fiduciosa preghiera. Rivolgo un pensiero affettuoso ai giovani, ai malati e agli esposi novelli. Ieri abbiamo celebrato la memoria di San Francesco Saverio, patrono delle missioni. Questo Santo Sacerdote ci ricorda l'impegno di ciascuno nell'annunziare il Vangelo. Cari giovani, siate coraggiosi testimoni della vostra fede. Cari ammalati, offrite la vostra croce quotidiana per la conversione dei lontani alla luce del Vangelo. E voi, cari esposi novelli, siate annunciatori dell'amore di Cristo a partire della vostra famiglia. Desidero ora invitare tutti a pregare per le monache del monastero greco ortodosso di Santa Tecla, Amalullah in Siria, che due giorni fa sono state portate via con la forza da uomini armati. Preghiamo per queste monache, per queste sorelle e per tutti le persone sequestrate a causa del conflitto in corso. Continuiamo a pregare e a operare insieme per la pace. Affidiamoci alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Maria, regina della pace. Maria, regina della pace. A terra stai, qui esi in cieli, santi vici e tu, noventù, all'egna il regno tu, e ad voluta tua, Sicut in cerro e in terra, ane e nostri, qui di annucano bisoglie, e di nide nobis de vita nostra, Sicut et nos dimitimus, e vittoribus nostris, ene nos inducas in tentazione, ser liberandos ad amalu. Domino Suo Viscum, et nun Spirito Tuo, sit nomen Domini Benedictum, ex hoc nume augusque in secolo, aiutorium notum in nomine Domino, infestit Ceno, bentero, benedicta Vos, omnipotens Deus, Father, and fill you, as Spiritus Son. Amen. Applaus 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 Grazie.